I migliori dieci con Clorucci e Pupillo dell'esercito italiano sono infatti dodicesini, quattro dicesini scusate per l'esattezza. Bruno Chimier, Estrocalo e Corus de Monsen, Unsel Francais, Baio, Fugite Fiori per Nicar D'Or, genetica importante per questo castrone che appartiene a Gianluca Pesson. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.